1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8 Ciao amici e ben ritrovati per questo nuovo video Vorremmo raccontarvi il nostro mese di maggio Seguitemi! Roma, 5 maggio 2018 Ancora portiamo orgogliosamente nel cuore L'esperienza di essere stati giurati Del contest Il Poeta Scodinzoante Indetto da Animal Life Italia E rivolto ai ragazzi delle scuole dell'obbligo del Comune di Roma Nella splendida cornice del Roseto Comunale di Roma Abbiamo premiato i vincitori E abbiamo rinnovato il nostro impegno In favore dei nostri amici animali Esatto, i diritti di tutti gli animali Quelli dentro e quelli fuori dal mondo dei cartoni E proprio a maggio abbiamo cominciato a lavorare A una serie nuova di Zecca Duro, lavoro, lavorando sodo insieme Duro, lavoro, lavorando sodo Ti pare tosto eppure tosto non lo è Quando si fa squadra tutto poi viene da sé Ti pare tosto eppure tosto non lo è Quando si fa squadra tutto poi viene da sé La produzione è di Netflix e Michelodion E saranno nostre le canzoni italiane e la sigla di Pinky Malinky Pinky Batti a tempo, mani e piedi Pinky Malinky Pensa fuori dagli schemi Pinky Malinky Chi lo vede fa così Pinky Malinky Viva, viva, Pinky Spacca questo tipo rosa Pinky Malinky Viva, 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 Pinky Malinky A maggio abbiamo poi iniziato una lavorazione Che ci porteremo dietro per tutto giugno Si tratta della nuova meravigliosa serie di cartoon network Dal titolo Apple and Onion Io qua presto la voce a Onion quando canta Ma avremo modo di parlarvi meglio di questa serie Nelle prossime settimane E dove potete ascoltare la nostra musica in tv Oltre che qui, naturalmente, sulla playlist musica fotonica Ecco qua Ok, l'appuntamento è per il nostro prossimo vlog Perché giugno sarà carico di belle novità Benvenuti nella mia grande fattoria Bella pastorella Io ti proteggerò E se pioverà E dunque, rimanete sintonizzati Mi piaciate questo canale E soprattutto la sera, prima di andare a dormire Lavatevi i denti Eh sì, ancora portiamo nel cuore l'esperienza magica Magica Mi scatta sempre il poeta, hai capito? Roma, 5 maggio 2018 E fin qui Roma, 5 maggio 2018 Provevo a cambiare data, magari va bene a ridere No, lo so quello che devo dire Maggi un mi piace Segui i raggi fotonici anche su Instagram e su Facebook Iscriviti a questo canale Ecco, sì, bravo Vai col dittino proprio lì Grazie a tutti Grazie a tutti.